Allora, Lucilla Boari, ci troviamo alla Coppa Italia delle Regioni, che ricordi ti porta a questa competizione quando difendevi i colori della tua squadra e quella della Lombardia? Beh, sicuramente porta bei ricordi perché comunque il mio percorso l'ho iniziato qui, dalla Coppa delle Regioni ed è un passaggio di rito che poi porta alle nazionali per chi fa un percorso ad alti livelli e comunque è sempre bello ritornare su questi campi, comunque in una situazione di squadra con le varie regioni a confronto e molto emozionato.